Una città al collasso, strade deserte e ospedali in lincea. Pronto a questo disastro, veda. Sono William Balagusa, medico di Milano. Ho fatto partire una campagna di raccolta fondi. Forza italiana, uniti siamo la forza. Insieme a Chiara Ferraghi, che è veramente degno del plauso di tutto il paese. Sono molto felice di dirvi che di questi soldi, i primi 80.000 euro, sono già stati utilizzati per questo nuovo fornitore. Domani la prima parte delle tirapintesi. Le verrà inaugurata. Grazie a tutti.